bella a tutti ragazzi sono mici in compagnia di tanti amici francesco gianluca emanuele giuseppe e ci facciamo questa bellissima salita eccola qui per andare dove andiamo francesco alla cresta alla cresta vi faccio fare una direttissima la vera direttissima la vera dire la vera quella che fate voi certo è un duplicato eccoli qui vai che io mi faccio a piedi è tutto è tutto documentato senti senti come come fai bella fresca ecco un classico percorso per bici elettriche siamo quasi in cima all'artemisio la cresta come ci sono dire che è dritto di là ah meno male si immagino c'ho il ventricolo destro che si accesa la spia ma ci vuole la luci guarda è tutto Buongiorno! E' l'ultimo, è l'ultimo, è l'ultimo, è l'ultimo, è l'ultimo, è l'ultimo, siamo in cima all'Artenisio, quindi questi dovrebbero essere gli scapi minuteri del Monte Attenisio. Sì, veramente, l'Amazzonia! Che poppa! Ancora si sale! Ma quant'è alto sto monte? Da stamattina che salgo! Ancora si sale! Ancora si sale! Lippo! Grazie. Sarà a destra. E beh, e qua come fai a saperlo? Non, 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 non. Non. On te denying, we open your behind. La der va, la dería en esta ¡ spurul! It's a strange canpe. La tarna. içente Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Sì 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 Grazie per la visione Grazie per la visione